Sì, sì, tocca a noi fare un gran campionato e far venire più gente allo stadio tramite i risultati. Più risultati facciamo e invogliamo tutti i tifosi del Pescara a venire allo stadio. È normale, il Pescara è una grande piazza, una grande società e l'obiettivo è quello ovviamente di andare in Serie B. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Il mister mi conosce, l'ho avuto anche a Catanzaro, mi vuole perché mi alleno sempre bene. Poi ovviamente lui vede sempre la meritocrazia, anche se lui mi conosce, se non mi alleno come Dio comanda non mi fa giocare, ovviamente è giusto così. Il mister, io l'ho sempre detto, nella categoria è uno dei più forti secondo me. Con lui ho fatto sempre bene e poi ho grandissima stima per il mister. Abbiamo visto giro da esterno ma anche da falso 9 dove ti trovi meglio e all'occorrenza te la senti di giocare centrale? Sì, sì, due anni fa ho fatto il centrale, tre anni fa voglio dire ho fatto il centrale e ho fatto 16 gol con lui. Poi l'anno scorso ho fatto l'esterno, ho fatto sempre bene, ho fatto 11 gol, quindi è uguale, non c'è una preferenza. Poi decide il mister dove farmi giocare e dove preferisce lui farmi giocare. Sì, sì, sabato inizia la prima battaglia di una lunga guerra e noi dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima, una finale. Già da sabato dobbiamo far vedere come ci ha preparato il mister e dobbiamo vincere.